A quanto pare ragazzi è nata una nuova coppia d'Amici 2022. Allora, capiamo un attimino cosa sta succedendo, ma prima di iniziare vi invito a lasciare un pollice in su, un bel like sotto questo video. Diamo quindi spazio a questa straordinaria notizia che sta facendo impazzire di gioia il pubblico del talent show di Maria De Filippi. In pratica tutto si è saputo grazie alle varie anticipazioni che ci sono, che sono legate appunto alla prossima puntata che poi vedremo. Andrà in onda domenica 23 ottobre, ma già è stato possibile scoprire cosa è successo nella scuola di Canale 5. E la seconda coppia di questa edizione sarebbe ufficialmente sbocciata, quindi, oltre a lavorare sodo, gli allievi hanno avuto così l'opportunità anche di conoscersi bene in maniera personale. A proposito del programma di nuove coppie, nei giorni scorsi si è saputo che è nato l'amore tra Rita e Niveo. Che si piacessero già, lo si sapeva praticamente, e in realtà, insomma, hanno rotto il ghiaccio già da quel dì. E dopo diversi abbracci e sguardi complici, i due allievi si sono dati una sorta di appuntamento per la sera. Quindi, una volta ritrovatisi insieme nel letto, si sono lasciati andare, beh, soltanto a un bacio per ora, anzi, diciamo a una serie di baci. Una passione che sembra, diciamo, genuina, e che aiuterà i due ragazzi a superare tanti momenti difficili che avranno, perché? Perché ognuno consolerà l'altro. Quindi al programma la nuova coppia è totalmente realtà, e succede quindi a Rita e Niveo, che continuano a godersi la loro relazione sentimentale. Si tratta di due ballerini che fanno parte di Raimondo Todaro e di Manuel Loh. Il loro rapporto nella scuola è diventato sempre più forte, e hanno ormai capito di avere entrambi dei sentimenti. In particolare, la conduttrice Maria De Filippi ha diffuso un video in particolare, che i telespettatori vedranno proprio quel giorno che vi avevo detto prima, quindi il 23 di ottobre, nel quale si è potuta avere conferma definitiva dell'amore tra i due allievi. E quando Gianmarco, Ramon e Mattia sono stati chiamati a scegliere la ragazza da poter corteggiare nel corso di un ballo, Mattia ha scelto Maddalena, e poi la padrona di casa ha di fatto confermato che fossero proprio una coppia. Secondo le anticipazioni diffuse da Novella 2000, i due si sarebbero anche scambiati dei baci nei giorni scorsi. Quindi, ragion per cui, l'amore possiamo dire che ha trionfato ancora una volta nella trasmissione Mediaset, e la speranza di tutto il pubblico è che questa love story possa in qualche modo durare il più a lungo possibile, e noi ce lo auguriamo. Parlando ancora di amici, ma di concorrenti della scorsa edizione, Alex Wise e Sissi Cesana sarebbero vicini ad approdare a Sanremo 2023. Avrebbero già presentato la canzone inedita al conduttore e direttore artistico Amadeus, che dovrà quindi vagliare la loro richiesta. Canterebbero in coppia, ma per ora non ci può essere ancora l'ufficialità. Che attenderemo noi, magari, con una prossima news. Per quanto vi riguarda per ora è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi invito a tornarmi a trovare su Pausa Caffè Live per rimanere sempre aggiornati su ciò che c'è sul mondo della tv.